Finisce la gara di campionato fra Inter e Torres, vince la Torres 3-0, siamo con Simona Sodini, una partita sicuramente difficile, era molto molto difficile fare risultato oggi. Sì, diciamo che quando si entra in campo comunque si gioca per vincere, per fare comunque sempre un buon risultato, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta e diciamo che in questo caso ha vinto il migliore. Avete iniziato anche discretamente bene nei primi minuti, hai avuto un'occasione tu, poi mi è sembrato che subito il gol invece anche psicologicamente siete un po' calate. Sì, un pochino sì, quando si subisce gol siamo una squadra anche molto giovane, quindi magari patiamo un po' questa cosa qui, abbiamo subito subito il primo gol, dove si è fatta male anche il nostro portiere, quindi mentalmente siamo un po' calate. Ci siamo riprese ma comunque non siamo riusciti a fare di più di questo. Qualcosa di buono comunque si è visto anche oggi, magari nel secondo tempo o nel finale avete provato almeno a fare un paio di contropiedi. Sì, sì, comunque abbiamo fatto la nostra partita, credo che si poteva fare ancora di più, soprattutto magari sui 20 metri, un po' di sfortuna, siamo arrivate poche volte davanti alla porta e quindi è andata così. Oggi è andata così, comunque il campionato è ancora lungo e c'è tempo per recuperare. Assolutamente sì, non moleremo mai e cercheremo ancora di giocare per la vittoria perché in questo momento è quello che ci manca.